Gentili telespettatori, buona giornata. La Russia va verso il fallimento tecnico. Non pagate le cedole in dollari. Le conseguenze a questo vediamo quali sono, perché è arrivata la data dove la Russia doveva saldare i primi debiti dall'inizio della crisi internazionale. Gli investitori stanno aspettando di ricevere il pagamento di 117 milioni di dollari di cedole su due obbligazioni russe. I primi pagamenti di questo tipo da quando i paesi occidentali hanno risposto all'invasione, con sanzioni finanziarie senza precedenti. La scadenza è prevista per oggi, 17 di marzo. Segna un test cruciale della volontà e della capacità di Mosca di continuare a servire il suo debito estero. Il 5 marzo Putin ha detto che i creditori dei paesi ostili che hanno imposto sanzioni dovrebbero essere pagati in rubli, piuttosto che in valuta estera. Ma secondo Fitch, una tale ridenominazione forzata dei pagamenti delle cedole indicherebbe che è iniziato un fallimento, un processo simile al fallimento. La società declasserebbe ulteriormente il rating di credito della Russia a default limitato. Se il pagamento non venisse effettuato in dollari entro il periodo di grazia di 30 giorni che segue la scadenza di oggi. Alcune delle obbligazioni russe denominate in dollari e in euro contengono una clausola di ripiego che permette il rimborso in rubli, ma le due obbligazioni con cedole in scadenza per oggi non sono tra queste. Non c'è la clausola che permette di pagare in un'altra moneta. E se uno Stato non fa fronte al pagamento di queste cedole, cioè sono prestiti con gli interessi, sono prestiti che sono stati fatti alla Russia sotto forma di buoni statali, buoni ordinari del tesoro russo, se la Russia non restituisce il capitale più gli interessi come pattuito nel contratto ma vuole pagare in un'altra moneta perché non ha soldi in valuta estera come scritto nel contratto, si apre il fallimento tecnico limitato, nel senso che da lì parte il fallimento della Russia che si può allargare sempre di più, ma ha 30 giorni per pagare nelle valute pattuite nel contratto. Gli investitori occidentali si stanno preparando al fallimento da quando il mese scorso sono state imposte sanzioni statunitense ed europee contro la banca centrale russa. Le due obbligazioni che pagano le cedole oggi sono scambiate a un prezzo di meno di 30 centesimi di dollaro, anche se sono salite leggermente dai loro recenti minimi di circa 20 centesimi. Gli investitori occidentali che detenevano circa 170 miliardi di dollari di attività russe prima della crisi hanno già subito pesanti perdite. Un default sul debito estero della Russia, di cui circa 20 miliardi di dollari erano nelle mani di stranieri prima della crisi, solleverebbe anche domande sulla mole di debito in rubli del paese e sui circa 90 miliardi di dollari di obbligazioni in valuta estera emessa da società russe. L'ultimo fallimento della Russia risale al 1998, quando si innescò alla crisi finanziaria che portò quasi al crollo dell'edge fund americano long term capital management. Poi il governo ha ristrutturato il suo debito in rubli, il debito denominato in dollari dell'era sovietica, ma ha continuato ad effettuare pagamenti sulle obbligazioni internazionali emesse dal crollo dell'Unione sovietica. L'ultimo fallimento completo sul debito estero è avvenuto all'indomani della rivoluzione russa, quando il governo bolscevico ripudiò i debiti dell'era zarista. Il pagamento in valuta locale delle cedole sugli eurobondi in tolla statunitensi dalla Russia rappresenterebbe, come vi dicevo, un fallimento sovrano alla scadenza del periodo di grazia di 30 giorni. Una sifatta ridenominazione forzata dei pagamenti sarebbe indicativa del fatto che un default o un processo assimilabile al default è iniziato. Lo chiarisce l'agenzia di rating Fitch in una nota di commento sui potenziali eventi del default fallimento della Russia, ricordando che quelle in scadenza oggi sono le prime cedole in valuta estera dopo il decreto del 5 marzo di Putin, che impone di pagare in rubli i creditori di paesi che hanno sanzionato Mosca. In realtà lui la vuole far passare come ah sì, allora vi pago in rubli, in realtà non può pagare con altre valute estere perché non hanno la possibilità di convertirli e di accedere alle riserve strategiche in moneta straniera. Fitch esamina anche gli effetti del mancato pagamento degli investitori non residenti, delle cedole sui bond sovrani russi, OFZ, denominati in rubli scaduti lo scorso 2 marzo. Ci sembra di avere inteso che il Ministero delle Finanze della Russia abbia fatto questi pagamenti di cedole sugli OFZ al 2024 al deposito di compensazione nazionale, ma non sono stati pagati agli investitori stranieri a causa delle restrizioni della banca centrale russa, dice Fitch. Questo rappresenterà un default se non verranno presi i rimedi entro 30 giorni, quindi parliamo del 2 marzo, entro 30 giorni si va all'1 di aprile perché marzo ha 31 giorni. Fitch è precisa che sta concedendo alla Russia un periodo di grazia di 30 giorni nonostante l'assenza di documentazioni sugli OFZ che confermi i dettagli relativi a un qualsiasi periodo di grazia. Quindi le agenzie di rete indicano che gli stiamo dando 30 giorni di tempo ma che non sarebbero neanche dovuti, potrebbero già dichiarare il fallimento della Russia. Le conseguenze di un fallimento, secondo la maggior parte degli operatori internazionali finanziari, avrebbe un impatto eccessivamente grave sul sistema finanziario internazionale. Creditori, investitori, grandi gruppi di risparmio come BlackRock e PIMCO subiranno perdite considerevoli ma il sistema bancario dei paesi occidentali nel suo complesso non subirà un colpo troppo duro. Secondo i dati più recenti il sistema bancario francese esposto al debito sovrano russo in valuta per circa 4 miliardi di dollari, l'Italia per 2 miliardi, gli Stati Uniti per 4. La Russia del resto non è un grande debitore sul mercato internazionale dei capitali, con un rapporto debito PIL di appena il 20% secondo alcuni calcoli l'ammontare complessivo del debito in valuta estera che potrebbe andare in fallimento ammonta un totale di circa 40 miliardi. I paesi e le economie occidentali dovrebbero dunque essere toccate solo marginalmente da questo evento, mentre i cittadini russi stanno già sperimentando le settimane il blocco al ritiro dei depositi bancari, oltre una certa soglia, e la sostanziale polverizzazione del loro risparmio attraverso un'inflazione a doppia cifra, la svalutazione del rublo, le borse chiuse. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e buona giornata. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di notizie, politica e fai da te. Grazie a tutti e arrivederci.